Recensione di Asus MemoPad HD7, il tablet di casa Asus con processore quad-core in vendita al prezzo di solo 149€ Un saluto a voi tutti amici di AndroidWorld.it, oggi recensiamo Asus MemoPad HD7, tablet da 7 pollici di casa Asus Che si affianca al Nexus 7 già in commercio e anche ovviamente al Nexus 7 futuro E va a sostituire il MemoPad 7 che in realtà ha avuto anche una vita abbastanza breve Questa è la confezione, l'abbiamo già fatta vedere nell'unboxing quindi andiamo veloce Cavo micro USB, alimentatore e fine come un po' tutte le confezioni dei tablet Quindi la spostiamo dal nostro obiettivo E invece passiamo al MemoPad Questo è il MemoPad, le linee ricordano in parte quelle di Nexus 7 Che adesso li avvicino Nexus 7, sto parlando del primo Nexus 7 perché non ho ancora sotto mano la versione nuova Ecco qua, bianco, sporco Le linee si assomigliano molto, vedete c'è la stessa fessura I tasti sono nella stessa identica posizione Sopra invece cambia perché il Nexus 7 non ha nessuna connessione che invece ha nella parte inferiore Non abbiamo tasti fisici o touch qua sotto, abbiamo una fotocamera frontale Abbiamo ovviamente, come avete già visto, una fotocamera Qualche specifica tecnica del tablet in generale Il processore, l'abbiamo detto, è un quad core da 1.2 GHz Di casa Mediatek, è un MTK8125 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD Qui c'è lo slot che invece era assente sul Nexus 7 Non abbiamo connettività NFC Abbiamo invece il GPS, mentre non abbiamo la radio E non abbiamo un'uscita video Quindi non è presente l'HDMI ma non è supportato neanche l'MHL tramite porta microUSB purtroppo Lo schermo, lo schermo è un 7 pollici Lo schermo è un 7 pollici, 1280x800 pixel Purtroppo Eccolo Senza flash Fotocamera frontale da 1.2 megapixel La fotocamera dietro, quella da 5, registra video fino a 720p Questo è lo schermo, che è bello In generale il tablet in mano si percepisce subito Che è un pochino più spesso del Nexus 7 precedente In generale i materiali sembrano un pochino più cheap, un pochino più economici La plastica dietro è sicuramente più economica Anche il pannello, il vetro frontale, si percepisce subito Come sicuramente sia costato meno di quello di Nexus 7 ad Asus È un po' una sensazione generale È un pannello un pochino meno liscio Che trattiene più le impronte, che trattiene più la polvere Però è comunque, diciamo, poco conto Perché? Perché comunque lo schermo che ci sta sotto è un bello schermo Ha anche un buon angolo di visuale Per chi è preoccupato da questa cosa I colori non si perdono andando a inclinare il tablet Android è la versione 4.2 Andiamo a vedere Barra delle notifiche personalizzata da Asus Che ci torniamo un attimo su Android 4.2.1 Nelle impostazioni, già che sono venuto qua Guardiamo un attimo Abbiamo il risparmio di energia No, scusate Il risparmio di energia è come applicazione La vediamo dopo Nelle impostazioni personalizzate di Asus Possiamo mettere gli screenshot Tenendo premuto il tasto del multitasking Mi avvicino un po' In modo da vedere meglio lo schermo La barra delle notifiche personalizzabile Asus o meno Se levo questa spunta La barra torna quella di Quella standard Quella standard di Android La regolazione dell'illuminazione in base alle applicazioni che utilizziamo La possibilità di accendere o spengere lo schermo con la cover ufficiale di Asus Quando apriamo chiudiamo la cover stessa E poi più o meno qui è tutto Quindi barra delle notifiche personalizzate Abbiamo queste impostazioni Non ce ne sono altre però possiamo rimuovere queste Abbiamo il salvataggio intelligente che in questo caso l'abbiamo abilitato Lo vedremo poi nel risparmio energetico Abbiamo la luminosità impostabile Avete visto che comunque era Java senza luminoso Senza dover arrivare in cima Al massimo insomma Arrivando invece al massimo Abbiamo una luminosità ancora più intensa Che ci aiuterà a vedere il tablet anche all'esterno Abbiamo poi Impostazione quella wifi diretta Impostazione audio in cui io mi stupisco Come sia possibile che Asus dopo circa un'anno e mezzo Ancora non abbia corretto musica Che c'è scritto musica e E poi abbiamo il wireless display Ovvero l'unica possibilità Che abbiamo di fare streaming video fuori da questo tablet Visto che non è presente né HDMI e né MHL Ci vuole ovviamente un televisorio compatibile Il sistema non è esattamente fluidissimo Penso sia tra virgolette colpa del processore MTK Anche se l'ho visto scorrere più fluidamente su altri dispositivi C'è questa cosa che si nota spesso a volte su questi processori Di un attimo di imbarazzo Quando iniziamo a utilizzarlo Poi invece la velocità del sistema aumenta Avete visto la prima volta che ho aperto le applicazioni È andato un attimo nel panico Le volte successive è più fluido Anche se diciamo la fluidità non è perfetta Abbiamo un po' questa sensazione di micro lag Ma a mio giudizio è comunque sicuramente molto accettabile Perché all'interno di un prodotto buono come questo In 249€ Il fatto che quando uno preme home La schermata torni facendo qualche leggero scatto Secondo me è assolutamente accettabile Le applicazioni sono veramente tante Installate da Asus Abbiamo sia Chrome che il browser Andiamo a testare Chrome Ok abbiamo già Android Word Ma io voglio stressare un po' il tablet Questa è la tastiera personalizzata di Asus Premendo qua ci si accorge che non è presente la vibrazione Quindi non c'è un feedback di vibrazione Quando proviamo i tasti Ok Siamo connessi in Wi-Fi Perché non è presente connettività o MTS L'avete probabilmente già intuito Questo è The Verge Attendiamo la fine del caricamento Il sito per chi lo conosce è molto pesante Lo utilizziamo da tempo Per fare i nostri test Perché specialmente da quando il nostro sito Ha finalmente una versione mobile Possiamo almeno andare a stressare un po' Quest'altro sito Dicomene il tablet grazie a quest'altro sito Non ha ancora finito di caricare Sta mettendo un pochino Ok Un attimo per Riadattare il testo Ma poi comunque tutto bene Questo sito mette un po' in crisi tutti E il quad core di Mediatek si comporta bene Avete visto che se io ovviamente voglio zoomare Lo zoom lo fa Se faccio il doppio tap Si avvicina Non è presente il riadattamento alla colonna Diciamo che la navigazione è buona Questo sito mette un po' in crisi tutti Questo Mediatek si comporta bene Soprattutto ci sono anche qui Un po' come nella home Ci sono dei micro lag Che a mio parere sono assolutamente tollerabili Soprattutto in funzione del tipo di prodotto Che siamo andati ad acquistare Eccolo qua Qui abbiamo il multitasking dove possiamo chiudere le applicazioni Mentre invece qui abbiamo Le Diciamo queste pop up Se io per esempio Voglio sapere che tempo fa Ma allo stesso tempo mi viene un dubbio Perché Dovevo fare giusto un conto Posso fare così E anche qui fare il mio bel Conto Allo stesso modo Posso aprire il lettore video L'impostazione audio Il convertitore di unità Conto alla rovescia Cronometro Bussola Browser Social network Calendario E mail Posso per esempio aprire la bussola Perché Potrei essere perso Ecco qua Nord Sì torna abbastanza Ok Continuiamo con le applicazioni Abbiamo App backup Che fa proprio quello che pensate Ovvero fa il backup delle app E se volete anche dei dati Oppure solo dei loro dati Che è molto più comodo Per risparmiare spazio Questa applicazione Uno, due, tre, quattro Che permette di bloccare L'accesso ai vari software Piccolo programma per disegnare Abbiamo poi House Splendid Che è un'applicazione molto intelligente Perché Lascia all'utente La scelta Di Come visualizzare I colori sul display Ci sono spesso delle faide Fra Chi vuole un colore Più acceso Chi vuole un colore più smorto In questo caso Abbiamo questo bellissimo tasto Che fa la magia Probabilmente lo vedete un pochino anche voi Tramite la videocamera Sicuramente si perde Se non volete lasciare tutto Al tablet Potete applicare I miglioramenti Manualmente E se le fragole Vi piacciono viola Invece Che il rosso Potete farlo Per fortuna Posso annullare tutto Asus Story Raggruppa Ormai ci sono tanti software L'avete già visti anche su altri dispositivi simili Raggruppa le foto E permette di creare un album Molta applicazione simpatica Niente di più To-do list Una to-do list abbastanza semplice In più permette di Impostare Rispetto ad altri software Permette di impostare una data Entro quando dovrei fare una cosa Audio Wizard L'abbiamo visto Buddy Buds È il raccoglitore Di social network Abbiamo Google Earth Abbiamo Google Plus Con le sue foto Google Plus La fotocamera Quindi abbiamo detto Fotocamera da 5 megapixel Le foto sono Così così A parte il fatto che È un po' lento Ok Sono abbastanza buone Niente di accelso Da questi tablet Non ci si aspetta molto di più Fa quello che deve fare In modo onorevole Diciamo che comunque Ho visto molto peggio Di buono C'è il fatto che C'è l'impostazione Dell'HDR Dov'è? Dov'è? Comunque è attiva Non mi ricordo più In questo momento Da dove si attiva Non so perché Ah ecco qua Eccola qua L'impostazione HDR Io lo lascio attiva Perché migliora nettamente Le foto Un po' in tutte le condizioni Di luce Non essendo gli scatti Di questo tablet Eccelsi L'abilitare L'HDR Permette di Ottenere degli scatti Migliori Di come farebbe senza Portandoli A volte Anche diciamo A un po' più Dell'accettabilità E qualche volta Vi potrebbe anche scappare Uno scatto Un pochino meglio Degli altri Quindi HDR La scelta di La scelta di includere L'HDR Qui è promossa Diciamo che L'HDR Non è una funzione Che serve a migliorare Le foto Però in questo caso L'avere l'HDR Sempre attivo Magari non creerà Delle immagini Fedelissime Ma aiuterà Tirare fuori Gli scatti Un po' meglio Abbiamo La libreria Che in pratica Raccoglie PDF Che abbiamo caricato Sotto forma di libri Abbiamo Volevo far vedere Il risparmio energetico Eccolo qua Che permette Sia di Qui abbiamo il grafico Della batteria Abbiamo Il salvataggio intelligente Che si può semplicemente Abilitare o disabilitare L'avevate visto Anche dalla barra Delle notifiche A questo punto Possiamo scegliere Se questo salvataggio Deve essere ottimizzato Che è quello che migliora La batteria Senza però Disattivare le connessioni Il massimo Che disattiva le connessioni Quando il tablet Va in sospensione O quello personalizzato Che ci permette Di scegliere Qualche opzione in più Come Il tipo di luminosità Da applicare In base Alla singola applicazione Se non volete Perdere nessuna notifica Come per esempio Ho voluto fare io Ho messo quello Ottimizzato E ho lasciato fare a lui Protezione ai genitori Permette tramite Il servizio web Di Asus Di gestire il tablet Anche da remoto Abbiamo poi Un'applicazione Famosa La famosa applicazione Supernote Che Asus Ci propina ogni volta Ha ragione Il verbo Propinare In questo caso Non è adatto Perché l'applicazione È molto molto buona Web storage Che raccoglie ovviamente Il servizio cloud Di Asus Poi abbiamo Zinio Noi abbiamo scaricato La rivista La nostra rivista Android Magazine Di agosto In modo Da fare una prova Funziona abbastanza bene Anche qui c'è qualche scatto Va un attimo nel panico Fra uno scorrimento E l'altro Ma si comporta comunque Abbastanza bene Eccoci qua Questo è più o meno Tutto il sistema Abbiamo Qua la possibilità Di ordinare Le applicazioni In modo differente Cosa che tra l'altro Dove essere presente In Android 4.3 E poi non lo è stato Applicazioni RipTai GP2 Lo sono riuscito A farlo funzionare Dopodiché Si blocca E adesso Ogni volta che cerco Di aprirlo Non va più Tempo Run 2 Invece Si comporta meglio Ma non ho un modo Cioè E' inutile che vi lo faccia vedere E' sempre il solito Tempo Run Nel complesso Asus Memo Pad HD7 E' un Veramente un buon tablet Per il prezzo Che viene proposto 149 euro Solitamente si trovano Prodotti di marche Un pochino meno Popolari Che comunque magari Possono fare bene Il loro lavoro Ma qui Per 149 euro Stiamo comprando Un tablet Asus Che ad oggi E' una delle aziende Che ha saputo fare meglio Nel mondo tablet Android Questo Memo Pad HD7 E' sicuramente la prova Non ho avuto modo Di testare Il Memo Pad 7 Che so non essere stato Un gran successo Quindi Presuppongo che questo Sia un degno sostituto Realizzato in tempi Molto rapidi Rispetto a un Nexus 7 Vecchia generazione Ovviamente Visto che adesso Calerà il suo prezzo E magari si avvicinerà Un po' di più Qui abbiamo una fotocamera E un memore espandibile A scapito di A scapito di Materiali costruttivi Un pochino Inferiori Per questa recensione Di Asus Memo Pad HD7 E' tutto Un saluto Da Emanuele Cisotti Per AndroidWorld.it Emanuele Cisotti